Abbiamo formato un gruppo di lavoro per realizzare un progetto di sviluppo che vede noi golfarancini protagonisti. Insieme faremo azioni per un turismo di alto livello come golfaranci merita. Incentiveremo la crescita economica dando la possibilità ai nostri giovani di diventare imprenditori. Sono nato qui a golfaranci, sono impegnato politicamente da oltre 18 anni. In tutto questo tempo ho maturato quell'esperienza necessaria per assumere l'impegno più importante, quello di rappresentarvi tutti.